Musica Martedì 24 dicembre, buongiorno e buona vigilia di Natale. Con l'assistenza tecnica in regia di Lucio Felicita diamo uno sguardo alle nostre notizie. In apertura c'è la politica perché l'attività del Consiglio regionale, della Giunta regionale è in ritardo specialmente sul piano delle vicende occupazionali. Si prefigura il ricorso all'esercizio provvisorio di bilancio per il prossimo anno. Ma ascoltiamo tutto nel servizio di Giovanni Minicozzi. Da qui a fine anno, come da prassi consolidata, vedremo in tv e leggeremo sui giornali i tradizionali auguri fatti per venire ai molisani da una folta schiera di politici e di amministratori pubblici che, con l'occasione, faranno anche il resoconto dell'attività svolta in questi mesi. A dire il vero però, quest'anno hanno poco, davvero poco, da raccontare a partire dalla scarsa attività svolta dal Consiglio e dalla Giunta regionale. Paradossalmente, l'anno che sta per finire verrà ricordato per le proteste degli indignati e per le Iene, nient'altro, niente o poco meno per la riorganizzazione dei servizi pubblici essenziali di competenza regionale, sanità e trasporti in primis, niente su fronte della ricostruzione post-terremoto, nessun riordino istituzionale per i tanti, troppi enti sub-regionali da sfoltire, nessun progetto cantierabile per riammodernare l'asse ferroviario e potenziare quello viario con la Termoli San Vittore sempre più a rischio, niente o quanto meno niente dato sapere sul nuovo bilancio di previsione e sulla finanziaria regionale per il nuovo anno che inevitabilmente partirà con l'esercizio provvisorio e con tutto quello che ne consegue. Dunque, per conoscere i settori strategici sui quali si punterà per un possibile sviluppo, bisognerà attendere ancora, ma c'è da scommettere che si punterà sulla banda larga e sulle energie alternative con particolare attenzione alle biomasse. Che dire poi sulla situazione occupazionale e produttiva del Molise? Una vera catastrofe. A nulla sono serviti infatti decine e decine di tavoli tecnici nazionali e regionali. La disoccupazione cresce vertiginosamente, le famiglie sono sempre più povere e tartassate, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, straordinaria e inderoga, assorbe totalmente l'impegno dell'assessore Michele Petraroia e tutte le risorse disponibili. Per il resto, solo proclami e promesse non mantenute fatte sulla pelle dei lavoratori che rischiano il posto di lavoro nelle piccole e medie imprese, allo zuccherificio, alla ITR e soprattutto alla gambe di Boiano, dove la filiera vicola ormai non c'è più. Lei ha ribadito che la filiera non è chiusa, anzi entro fine anno il piano industriale per il rilancio. Entro il 19, non il piano Deloitte, del quale mi piacerebbe avere qualche informazione, non solo un titolo, da Michele Iorio. Entro il 19 avremo non il piano industriale, ma il progetto di rilancio della struttura, finalizzato a puntuale riferimento per ogni anello della filiera. Questa dichiarazione del Presidente risale al 2 dicembre scorso. Il 19 dunque è passato, ma noi continuiamo a sperare che la soluzione arrivi presto. Intanto il nostro augurio di Buon Natale va ai lavoratori della GAM, dello zuccherificio, dell'ITR e a tutte le famiglie in difficoltà. Reati in calo nell'ultimo anno in provincia di Campobasso da 385 a 216. Anche in città il numero totale è sceso da 138 a 75. Sono i dati divulgati dalla Questura del Capoluogo sulla base della statistica del Centro di Elaborazione Interforze, fatta dalla divisione anticrimine. Rispetto al periodo del mese di dicembre dello scorso anno, per quanto riguarda i furti in provincia di Campobasso si è passati dai 204 del 2012 ai 119 del 2013, in città dal 63 dello scorso anno ai 40 attuali. Il dato complessivo indica una diminuzione anche delle singole tipologie di furto. Quelli in casa sono dimezzati e i furti nelle attività commerciali più che dimezzati. E cambiamo argomento e parliamo di trasporti perché non c'è pace per i passeggeri del tratto ferroviario molisano. Oltre ai disagi e ai disservizi dal primo gennaio dovranno fare i conti anche con l'aumento dei prezzi del biglietto. Ascoltiamo tutto da Anna Maria Di Matteo. Dal primo gennaio 2014 scatteranno gli aumenti sui prezzi dei biglietti ferroviari. Un adegomento di 9 punti percentuali deciso dalla giunta regionale. Un provvedimento che ha scatenato la dura presa di posizione del forum per il trasporto pubblico locale del Molise che ha convocato un'assemblea urgente per affrontare il problema. All'incontro c'erano i rappresentanti delle diverse associazioni dei consumatori e quelle ambientaliste che hanno ribadito la netta contrarietà agli aumenti soprattutto perché hanno detto a fronte del rincaro dei prezzi dei biglietti non corrisponde un adeguato aumento dei servizi. L'aumento che è stato deciso dalla giunta regionale di adeguamento delle tariffe ferroviarie comporterà un'attivazione di un processo di richiesta anche degli altri gestori del trasporto pubblico e quindi un aumento del costo della vita per tutti, quindi riguarda tutti i cittadini. Noi abbiamo convocato questa assemblea di urgenza in un giorno dove l'attenzione è verso il Natale perché era urgente dare una risposta perché dal 1 gennaio andrà in attuazione questo provvedimento. Noi cerchiamo di fermarlo anziché chiedere l'annullamento di questo provvedimento noi chiediamo la sospensione fino alla conclusione della prima trattativa con Trenitalia. Nel frattempo l'assessore Trasporti Nagni in una nota ha chiarito che nonostante le critiche mosse nei confronti di Trenitalia per i servizi scadenti offerti all'utenza, il governo regionale è stato costretto ad adeguarsi a quelli che sono gli obblighi normativi non ottemperati negli anni passati. Vale la pena ricordare, ha precisato l'assessore, che così come per il trasporto su gomma, anche per quello sul ferro abbiamo a che fare con contratti ereditati e l'adeguamento delle tariffe costituisce un obbligo imposto dei contratti di servizio 2009-2014 che ha ricordato prevede l'aumento tariffario dell'anno 2012 nella misura almeno pari al tasso di inflazione programmato. Insomma, ha concluso Nagni, non siamo certo impazziti, si tratta soltanto di un atto dovuto. E anche quest'anno Civitanova del Sagno riscopre il vecchio rito del fuoco con l'accensione delle indocce. Questo pomeriggio dalle ore 17 oltre 100 persone da diversi punti del paese si muoveranno in processione con le grandi indocce per confluire nella piazza centrale dove sarà acceso un grande falò. Dopo la sfilata in piazza si brinderà anche con vin brulè e dolci tipici. L'evento è organizzato dall'Associazione Civitanovesi nel mondo insieme ai cittadini del paese. E questa era la nostra ultima notizia. Passiamo adesso a leggere i titoli dei giornali. Diamo uno sguardo alla prima pagina di Primo Piano Molise che titola Natale di crisi la Chiesa accanto ai lavoratori. Messaggio di auguri del Vescovo Bregantini che prepara i fedeli alla marcia della pace di fine anno. La politica in pari da Papa Francesco per creare un legame di maggiore vicinanza con i problemi della gente. Questo l'appello di Monsignor Bregantini. Vediamo di spalla rilancio della filiera vicola. Stabilita la roadmap, il vertice per la vertenza GAM. Vediamo Campobasso, allarme e sicurezza ma la polizia rassicura i furti. Sono dimezzati la notizia dall'Abruzzo. Alto sangro, fondi stanziati ma non ancora erogati. Impianti chiusi a Roccaraso a centro pagina. Innovazione, il bando da 6 milioni. Sul Burm il primo gennaio da Sant'Elena Sannita. Soldi a un'azienda mai decollata. Imprenditore nei guai per un danno erariale da 700 mila euro. Isernia trasferta a Napoli per il rifornimento dei botti di Capodanno. Sequestrati quattro quintali di fuochi. Vediamo poi le notizie sportive. Serie D. Todino alla corte di Giacomarro. Carannante vicino all'Isernia. Juniores provinciale. Vasto Girardi e Olimpia Riccia si pretendono la vetta. Sesto travolgente. E questo era primo piano Molise. Vediamo la prima pagina adesso del quotidiano del Molise che titola Ascoltare la gente e trasmettere misericordia. Il messaggio augurale del Vescovo Bregantini da poco reduce dall'incontro con Papa Francesco. per un Natale che torni a scaldare i cuori. Non si deve mai perdere la speranza in un futuro migliore. In taglio alto. Mezzo secolo di storia. Arriva il ministro Mauro. 50 anni di autonomia. Legge di stabilità. Autostrada più vicina. I fondi confermati al Senato. Costi della politica. Nauil premia il Molise nel 2013. I tagli più elevati. Innovare l'agricoltura. 210 milioni. Milioni nel PSR. Le novità del piano 2014-2020. Andiamo a centro. Pagina. Isernia incassa indebitamente incentivi regionali. La truffa si impregna dell'odore del tartufo imprenditore. Nei guai da Isernia. Voleva far esplodere le feste con due quintali di botti. Andiamo a leggere le iniziative di rilancio del tessuto produttivo. Misure anticrisi. Un bando da 6 milioni di euro. Vediamo le notizie sportive. Serie D. Il Termoli si rafforza con l'ex rosso-blu Todino. Sempre dalla Serie D. Incontro tra Lisernia e Carannante. Boiano. Giglio si sfoga. Lupi. Petrucci nel 2014. Ci sarà una bella sorpresa. FIGC LND. Gli auguri agli sportivi molisani del presidente di Cristinzi. Vediamo la prima pagina del Sannio quotidiano e la notizia che riguarda la nostra regione imprenditore accusato di danno. Era reale operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato ad un'azienda con sede a Sant'Elena Sannita. 700 mila euro. Sigiglia immobili industriali e terreni. Avrebbe dovuto vendere tartufi e assumere maestranze con fondi regionali. Vediamo la pagina interna del tempo dedicata al Molise. Da Campobasso servono 20 milioni per far partire i treni. Convogli vecchi e senza riscaldamento. Tratte soppresse e ritardi continui. 3.500 persone ogni giorno sui carri bestiame. Destinazione Roma. Campobasso arrivano a 210 milioni per lo sviluppo dell'agricoltura. Vediamo da Isernia, funghi e tartufi DOP una bufala. E questo era il tempo. Diamo adesso uno sguardo alla stampa nazionale e apriamo come di consueto con il Corriere della Sera che titola Pensioni, aumenti mini, tagli veri, rivalutate le più basse sulle alte contributo di solidarietà, via libera, legge di stabilità e salva Roma. Letta tocca a noi quarantenni e difende Napolitano. Vediamo poi una foto notizia a centropagina di Barack Obama che annoia la passione di Barack, dice il Corriere della Sera. La famiglia ha la partita del basket e anche i presidenti si annoiano. Andiamo adesso invece a vedere la prima pagina dell'Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Titola così. Letta Renzi la prova del fuoco. Il Premier svolta generazionale. Tocca a noi quarantenni e non possiamo fallire. Lavoro, diritti e legge elettorale. Sfide difficili. Il leader PD mi ricandido sindaco di Firenze. Stabilità ok definitivo del Senato. E questa era l'unità, il tempo, il quotidiano della Capitale. Renzi il cognato e gli affari di famiglia Matteo e Business. Ecco il grande serbatoio economico del nuovo segretario del PD. Pubblicità, comunicazione e web. Così il sindaco ha instaurato il suo sistema di potere. una fotonotizia della residenza romana di Silvio Berlusconi, Palazzo Grazioli, Moroso, Forza Italia. Sotto sfratto, dice il tempo. Vediamo il giornale di Milano che ha un titolo che poi ritroveremo anche su Libero. Palle di Natale, tasse e bugie. Letta magnifica il governo e promette ripresa la realtà stangata sulla casa e arriva pure la patrimoniale. Psicodramma tra gli alfaniani. Stiamo qui a fare i puntini, puntini, puntini e non c'è bisogno di commentare. Andiamo adesso a vedere come titola l'avvenire che ha un titolo decisamente più sobrio e natalizio. c'è posto per lui e i piccoli. Lasciamo entrare Gesù seguendo Francesco. L'avvenimento del Natale sorprende un mondo troppo spesso distratto, eppure bisognoso di risposte all'attese dell'uomo, le storie e i volti di chi ha visto ripartire l'esistenza ed era l'avvenire. Leggiamo adesso la prima pagina di Libero e ritroviamo un titolo che abbiamo già visto. Le palle di Letta e Renzi. Pacchidono natalizi. Enrico aumenta le tasse di altri 2,1 miliardi e le spese di 3,6. Nel suo bla 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 10 bugie. Matteo promette ai disoccupati soldi che non ci sono e finge di voler abolire l'articolo 18. E c'è questa grande vignetta di Benni, di Matteo Renzi ed Enrico Letta in forma di palle natalizie. Vediamo il manifesto che ha una fotonotizia eloquente. Auguri con degli extracomunitari. Dietro le sbarre. Salgono a 15 gli immigrati del CIE di Ponte Galeria con la bocca cucita. Altri 60 in sciopero della fame. Enrico Letta si limita a promettere tempi di detenzione più brevi e dunque espulsioni più rapide. Sbarchi triplicati in un anno. La revisione della Bossi Fini vedremo che si può fare da gennaio. Questo era il quotidiano comunista. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Letta suona la carica dei quarantenni. Il 2014, anno di crescita e riforme. Nuove regole del voto prima delle europee. Doppia fiducia a legge di stabilità e al Salva Roma. Ok. Definitivo alla manovra. Andiamo a leggere la prima pagina del mattino di Napoli che titola Manovra. Due miliardi di tasse in più. Malletta brinda. Anno di svolta. Tocca i quarantenni. Legge elettorale prima delle europee. Il Senato approva la legge di stabilità. Il Premier rilancia. Non sono un tecnico. Correnzi. Gioco di squadra. Dice il mattino di Napoli. Vediamo adesso l'informazione economica con la prima pagina del sole. 24 ore. Letta con la spending ridurrò il cuneo. Fiscale svolta generazionale. Ora non abbiamo alibi. Dalla stabilità dividendo di 5 miliardi sulla ripresa i santommasi si ricrederanno. Questo dice il sole. 24 ore. Repubblica. Letta lancia la sfida dei quarantenni. Tocca a noi. Guai a fallire subito le riforme. Renzi non vuole il voto. Il Premier è giusto trattare con Berlusconi. Su Napolitano Grillo ha passato il segno. Stabilità e Salva Roma. Doppia fiducia al governo. governo. La stampa di Torino. Letta. Il Renzi senza alibi nel paese. La svolta dei quarantenni. Legge elettorale. Prima di maggio. La manovra è approvata. Fiducia al decreto Salva Roma. Tra le polemiche. Il mille proroghe cancellerà gli affitti d'oro. Vediamo il messaggero. Il quotidiano della capitale. 2 miliardi di tasse in più. Legge di stabilità approvata. Dalla casa al fisco. Conto finale più salato per i contribuenti. Decreto Salva Roma. In bilico. E bagarre alla camera. Tempi stretti per la conversione. E vediamo adesso l'informazione sportiva. Toir. Missione. L'Avezzi. Il proprietario dell'Inder. Scente in campo. Ieri a Londra. Assistito ad Arsenal. Chelsea. 0-0. Poi cena con Nasser Al-Khelaifi. Presidente del Paris Saint-Germain. Sul tavolo diritti TV e trattative. L'argentino è l'obiettivo di Mazzarri. Ma c'è anche Lucas. Vediamo in taglio alto. Vidal Natale. In casa. Scudetto. E questa era la nostra ultima notizia. L'informazione di Telemolise torna puntuale alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti l'augurio di una serena giornata e di una buona vigilia di Natale. Martedì 24 dicembre. Ariete. Una certa agitazione sia mentale che fisica consiglia di concedere qualcosa di più in termini di tempo ai vostri hobby e ai passatempi. Toro un grazie di cuore alla luna in vergine che vi riporta con i piedi per terra spezzando una lancia a favore della saggezza e della razionalità. Gemelli. La luna in vergine evidenzia le falle della vostra organizzazione. Se siete in difficoltà lanciate un segnale agli amici. Qualcuno accorrerà. Cancro portati a termine ai vostri impegni quotidiani con la coscienza a posto potete dedicarvi alla preparazione del pranzo natalizio. La giornata è ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo vi ha fatto ben più di un favore.